Buongiorno signore, io sono Mr. Lul e via libera da parte del governo agli spostamenti tra regioni. Infatti dal prossimo mercoledì 3 giugno si potrà circolare liberamente anche da una regione all'altra senza l'obbligo di autocertificazione. Riparte quindi almeno potenzialmente la stagione turistica, ci si potrà ovviamente recare a far visita ad amici e congiunti senza avere a che fare con le riaperture scaglionate di cui si era parlato nelle scorse settimane. Inoltre non dovremo nemmeno attendere un nuovo decreto per rendere ufficiale questo sblocco circolatorio ma verrà semplicemente applicato quello già emanato al 16 maggio scorso. Sempre da mercoledì sarà poi consentito l'ingresso nel nostro territorio anche ai cittadini europei, degli stati membri e dell'area Schengen, mentre per quelli extraeuropei si dovrà attendere ancora un po' fino al 15 giugno. A rendere però più frammentato questo quadro potrebbero contribuire eventuali misure straordinarie previste dai governatori di regione. Sappiamo infatti che Sardegna e Campania, insomma qualche dubbio su noi lombardi, lo nutrono forse anche a ragione. Detto questo io come al solito vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.